È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino il film italiano designato a concorrere agli Oscar 2022 come miglior film internazionale. L'ha deciso la commissione di selezione istituita dall'Anica su richiesta dell'Academy. La cinquina dei film nominati per concorrere al premio è previsto per l'8 febbraio, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar a Los Angeles il 27 di marzo. Un film personale e commovente, nel cast tra gli altri Tony Servillo e Teresa Saponangelo, Luisa Eranieri, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo ed Enzo De Caro. Grazie per la visione!